Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo dalle parole di Mario Draghi, la risposta a quella lettera inviata dal Vaticano con la richiesta di rimodulare alcuni punti del disegno di legge ZAN che violerebbero il concordato. Lo Stato è laico e il Parlamento è libero, ha detto il Primo Ministro. Così come anticipato già la vigilia del suo intervento in aula in vista del Consiglio europeo, il Premier parla del caso politico del momento, ovvero dell'intervento diplomatico del Vaticano sul disegno di legge contro l'omotransfobia già approvato alla Camera che chiede modifiche perché violerebbe il concordato. Senza voler entrare nel merito della questione, spiega il Premier al Senato, voglio dire che il nostro è uno Stato laico, non è uno Stato confessionale, quindi il Parlamento è libero di discutere. E sintetizza così la posizione di Palazzo Chigi, questo è il momento del Parlamento, non è il momento del Governo. Le parole del Premier sono molto apprezzate dal centro-sinistra, per Enrico Letta è piena condivisione della linea del Governo e Di Maio precisa, da cattolico dico che non solo siamo in uno Stato laico, ma il Parlamento è sovrano ed ha tutto il diritto di approvare un disegno di legge. L'obiettivo per Dem, Pentastellati, Leo e anche Renziani è fare presto. Infatti già nella serata, al Senato, riunione dei capigruppo per la calendarizzazione, ma siccome non c'è stata l'unanimità richiesta dal regolamento, sarà l'Aula a decidere. Il voto è atteso per la prima settimana di luglio. Il centro-destra, che ora trova più slancio nell'iniziativa del Vaticano, resta però sulle proprie posizioni. Il disegno di legge va affermato. La russa di Fratelli d'Italia dice portare il testo in aula a luglio è un attentato alla Costituzione e Giorgio Meloni chiede un intervento specifico del Premier, per approfondire ciò che definisce una controversia tra la Santa Sede e lo Stato italiano. A proposito di diritti delle comunità LGBT, la legge voluta in Ungheria contro la cosiddetta propaganda omosessuale vietata ai minori è diventata l'oggetto di un duro scontro tra l'Europa e l'Ungheria. Per Ursula von der Leyen questa legge è una vergogna. La questione è arrivata fino agli europei di calcio perché il Premier Orban ha rinunciato a seguire la sua squadra che questa sera ha giocato in Germania. Germania dove è stato proibito dall'UEFA di illuminare con i colori arcobaleno l'impianto di Monaco. La risposta è stata le luci arcobaleno non c'erano allo stadio ma tutta la città era colore arcobaleno. La legge anti-LGBT discrimina chiaramente le persone in base al loro orientamento sessuale e va contro i valori fondamentali dell'Unione Europea, vale a dire dignità umana, uguaglianza e rispetto dei diritti di ognuno. Questa legge ungherese insomma è una vergogna. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, senza remora alcuna, denuncia quanto accaduto in Parlamento a Budapest. La Presidente ha così incaricato i commissari Reiner de Breton di esprimere al governo ungherese tutta la preoccupazione possibile e comunque aggiunge l'Unione non scenderà mai a compromessi sui propri principi. La von der Leyen non è comunque sola da Merkel a Macron, sono in tutto 17 paesi tra cui l'Italia che hanno firmato una dichiarazione congiunta contro il provvedimento che per la cronaca vieta a scuola e nei mezzi di comunicazione la diffusione tra i minori di contenuti in cui si promuove. L'omosessualità alla vergogna di Bruxelles risponde quella di Budapest la dichiarazione della Presidente della Commissione offensiva perché basata su false accuse espresse da politici faziosi che non hanno svolto un'indagine imparziale. Per la presidenza ungherese la legge votata non impone a nessun maggiorenne come deve vivere, non lede il diritto al rispetto della privacy. È stata pensata, si sostiene a Budapest a protezione dei minori. Polemica aperta dunque che coinvolge anche l'UEFA e il governo europeo del calcio. Infatti non ha concesso un light show di sostegno alla comunità LGBT dentro e fuori lo stadio di Monaco di Baviera dove ieri sera si sono incontrate per il campionato europeo proprio Germania e Ungheria. Ragioni politiche dice l'UEFA per una decisione giudicata da tutti incomprensibile e difficile da giustificare. Toleranza zero verso chi vende armi senza rispettare leggi e regolamenti. Così Joe Biden questa sera ha illustrato la strategia per cercare di limitare l'ondata di criminalità che si è scatenata negli Stati Uniti. Gli episodi criminali, ha detto il Presidente, tradizionalmente aumentano in estate e quest'anno poi c'è stato anche il legame con la pandemia. Anche per questo sono necessari controlli severi da parte dei venditori di armi perché ogni giorno in questo paese muoiono persone per armi da fuoco. Troppe pistole finiscono nelle mani sbagliate. Quindi a chi non rispetta le regole sarà tolta la licenza perché, ha concluso Biden, con parole molto dure, non potete continuare a seminare morte. A Hong Kong l'Apple Daily, l'ultimo giornale di opposizione rimasto aperto, ha cessato le pubblicazioni cartacee online. È successo alla mezzanotte di Hong Kong, ieri, dopo l'ennesimo fermo di un giornalista. La stretta sull'Apple Daily è cominciata con l'arresto dell'editore Jimmy Lai, al quale sono stati congelati i fondi. Poi è stato arrestato il direttore, altri dirigenti sono stati portati via in manette dopo un blitz di 500 agenti nella redazione del giornale la settimana scorsa. L'ultima voce critica a Hong Kong si è dovuta così arrendere in nome di quella legge sulla sicurezza nazionale che ha visto oggi processare un manifestante anticinese reo di aver sventolato una bandiera considerata proibita. Per la prima volta in aula c'erano solo tre giudici e nessuna giuria popolare. Questa è la nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta dalla Cina a Hong Kong. Torniamo a parlare di cronaca italiana e parliamo di una storia che è finita bene, quella del piccolo che è scomparso ed è stato ritrovato questa mattina in un bosco dopo essere stato smarrito per due notti e un giorno. Un lieto fine a cui in pochi ormai speravano. Trenta ore dopo la sua scomparsa, con mille uomini impegnati nelle ricerche, Nicola Tanturli, 21 mesi di età, è stato ritrovato sano e salvo in mezzo alla vegetazione dei boschi di Palazzuolo sul Senio, confine tra Toscana ed Emilia Romagna, a quasi tre chilometri dall'abitazione da dove la sera di lunedì era uscito, facendo perdere le sue tracce. Un ritrovamento dovuto al caso e grazie a Giuseppe Di Tommaso, giornalista era inviato sul posto per seguire le ricerche, che era sceso dalla macchina per un lieve malore e stava percorrendo a piedi la strada sterrata che dal primo paese porta alle case sparse di Campanara, dove il piccolo Nicola vive con i genitori e il fratellino di quattro anni. Il giornalista ha sentito un lamento provenire da una scarpata e ha subito allertato i carabinieri che con lui sono scesi giù nel dirupo. Trenta metri più in basso si sono ritrovati davanti Nicola, affamato, assetato, ma solo con qualche graffio. La mamma lo ha riabbracciato poco dopo e da lì su un elicottero il bambino è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze per accertamenti e controlli che hanno confermato il suo buono stato di salute, nonostante la sua età, e le due notti e un giorno trascorse da solo in mezzo al bosco. C'è un'altra storia che è finita bene questa sera, è stato liberato ad Haiti Giovanni Calil, 74enne ingegnere italiano-siciliano, che era stato rapito il primo giugno nell'isola Caraibica dove si trovava per la realizzazione di una strada. La notizia è stata data direttamente dalla Farnesina che ha ringraziato il lavoro dell'intelligence e della unità di crisi. Ringraziamenti ovviamente da parte del Ministro Di Maio. Adesso vediamo com'è andata stasera agli europei, si è chiusa la prima fase, e quindi agli ottavi passano Svezia, Spagna, Ucraina, Germania, Francia e Portogallo. A proposito di Portogallo, Cristiano Ronaldo questa sera con una doppietta ha raggiunto quota 109 e ha eguagliato il record dell'iraniano Ali Daei, miglior marcatore nazionale di tutti i tempi. Poi ad un mese esatto dall'inizio della cerimonia d'apertura di Tokyo, delle Olimpiadi di Tokyo, il Presidente della Repubblica Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera olimpici. Saranno Jessica Rossi ed Elia Viviani e poi per le Paralimpiadi che sono in programma dal 24 agosto al 5 settembre Bebe Vio e Federico Morlachi. E questa era l'ultima notizia di questa edizione, come sempre domattina alle 7. Torna l'informazione, arrivederci e buonanotte. Grazie.